buongiorno amici ma soprattutto amiche di my own workout e oggi mattina abbastanza presto come di consueto e mi spetta un bel progressivo corsa in accelerazione collinare parto con il piano poi vado in salita per circa due chilometri discesa della stessa lunghezza e poi un lungo rettilineo un bel 1500 di spinta finale ma nel vlog di oggi voglio aprire una brevissima parentesi sul discorso respirazione nelle attività aerobiche, negli allenamenti aerobici perché è un discorso molto importante e sottovalutato non ascoltate chi vi dice non importa non è importante si prende come viene la respirazione vi dice così semplicemente perché è all'oscuro è completamente ignara della materia quindi non credete a questa cosa il respiro può essere allenato sempre tra virgolette la respirazione è un atto automatico però diciamo che può essere ottimizzato per quanto riguarda l'utilizzo dei polmoni e la capacità soprattutto di respirare col diaframma il che significa riuscire a far andare l'aria più in profondità e questo anche quando si pratica attività aerobica normalmente una grande maggioranza di persone nel quotidiano è abituata a respirare molto superficialmente semplicemente portando l'aria ai polmoni qua nella parte superiore dei polmoni perché molta gente iperventila che significa respirare molto velocemente in questo modo qua e dalla bocca una cosa estremamente sbagliata e venendo all'attività aerobica come ci si può diciamo abituare a un miglioramento della respirazione innanzitutto una respirazione profonda è strettamente correlata di riflesso al rilassamento muscolare e un banco di prova perfetto per fare pratica su questi concetti sono le corse lente lente comunque sia lunghe dove si può fare pratica sulla tecnica non soltanto sulla tecnica di corsa ma anche su questo aspetto del rilassamento che è strettamente correlato alla respirazione cosa si può fare non parlo di corsa ma è un concetto espandibile anche a tutte le attività aerobiche ci si può intanto addestrare sulla cadenza dei passi nella corsa lenta lunga viene molto bene inspirare per tre passi dal naso quindi uno due tre si inspira e al quarto passo si butta fuori dal si espira dalla bocca vi accorgerete che con la pratica anche quando il ritmo si fa da facile a svelto velocità di crociera comunque naturale riuscirete sentirete proprio la respirazione che va giù in profondità con tutti i polmoni diciamo operativi al al cento per cento quindi sarà non nonostante lo sforzo la respirazione rimarrà comunque lenta e regolare che benefici apporta questo modo questo controllo sulla respirazione ovviamente il miglioramento dell'utilizzo e del trasporto dell'ossigeno ai muscoli parlavo della respirazione correlata di riflesso al rilassamento muscolare l'attenzione portata alla respirazione profonda mette in condizioni i muscoli di rilassarsi e di sciogliersi il che significa che il muscolo come avevo già avuto modo di spiegarvi è come una spugna più rilassato rimane più rilassati rimangono i muscoli specialmente quelli maggiormente coinvolti nell'azione più ossigeno ricevono e anche la respirazione il diaframma anche rimane più rilassato e permette un utilizzo un assorbimento dell'ossigeno migliore fate caso a tutti quegli atleti tesi che respirano male che iperventilano e questo capita ve ne accorgerete soprattutto nel se partecipate a gare di corsa più iperventilano proprio con questo modo di respirare più vedete quanto sono rigidi e goffi nell'azione perché sono irrigiditi e fanno il doppio della fatica in un prossimo vlog ci concentreremo invece sul discorso del non sprecare anidride carbonica questo sarà tutt'altro argomento è una cosa molto importante da approfondire l'anidride carbonica non è un gas nocivo che che se ne dica invece ha dei grossi vantaggi se utilizzata nel modo giusto più che utilizzata soprattutto se non sprecata e prodotta in eccesso e cosa significa questo imparare a respirare meno nel senso che bisogna cercare di economizzare il ciclo respiratorio è meglio respirare meno e meglio è un discorso che approfondiremo con il tema entriamo nel campo metodo buteico e sarà sicuramente argomento di un prossimo video vi saluto con un paio di consigli su due esercizi che potete fare sia per runners che per saltatori di di corda soprattutto in fase di riscaldamento l'avevo parlato in un mio articolo provate fate molta attenzione massimo rilassamento muscolare perché dal rilassamento muscolare profondo scaturisce la buona resa della prova del riscaldamento quindi rilassamento quasi da sentire gli arti molli il viso molle quando balzate quando correte riempitevi la bocca d'acqua e tenetela chiusa bocca chiusa sia in salto che in corsetta si respira soltanto dal naso e questa questo tipo di respirazione ciclo respiratorio completamente nasale vi costringerà a utilizzare di più il diaframma sentirete il vostro la vostra pancia gonfiarsi come un palloncino e vi addestrerete piano piano a utilizzare i polmoni nella loro piena portata ok detto questo vi saluto c'è stata tanta carne al fuoco in in questo breve vlog logicamente vi invito se avete domande come sempre a scrivermi nei commenti qua sotto se avete opinioni contrastanti scrivetemi sempre nei commenti qua sotto visitatemi ai link e come sempre a bombazza ciao ciao ciao